La Turris vince e convince, vittoria per 1-0 contro il Catanzaro. Partenza bruciante dei Corallini che nei primi minuti mette in crisi subito la difesa ospite con una doppia occasione, lancio di bordo per Leonetti, aggancio, sombrero difensore catanzarese e tiro dal limite, risponde presente il portiere ospite Branduani e sulla respinta la corrente Varutti va sul fondo, Crosteso e la palla termina sul palo. Continua il monologo Corallino con un tiro di esempio, con Leonetti che manca il gol di un soffio ed infine con Varutti che ancora arriva in area e serve Giannone che a due metri dalla porta manda fuori. Risposta del Catanzaro a quindicesimo con Verna che si incune in area tu per tu con Perina, conclusione del centro avanti Cianci ben servito dalla destra per la Tendardini. I Corallini controllano il gioco con personalità e creano occasioni potenziali da rete. Il primo tempo termina tra gli applausi del pubblico ma con rammarico di non aver capitalizzato le tante occasioni. Nel secondo tempo era Turris Finardi per gli Islandi, per gli ospiti Beazzotti per Mombagi. Al cinquantunesimo occasione Catanzaro con un intervento decisivo di Lorenzini su Carlini. Al cinquantatresimo Franco elegante ed abile nei dribbling sovra tre avversari e serve Lonetti che non riesce a ribadire in rete. Al sessantesimo esce Santaniello per Loreto. Al settantasesimo lunga serie di passaggi della Turris che termina sui piedi di Luca Giannone che dopo uno scambio con bordo inventa un gol con un pallonetto millimetrico dove il portiere ospite Branduani non può arrivare. 1-0 ed esplode di gioia l'Amerigo Liguori. Risposta immediata del Catanzaro con un contatto dubbio al limite dell'area tra Curiale e Lorenzini. Vibranti proteste della panchina calabrese ma il direttore di gara lascia proseguire. La partita termina con il forcing ospite dopo quattro minuti di recupero e la Turris sorpassa il Catanzaro e si porta a 25 punti portandosi al terzo posto in classifica.